All'indignazione facciamo seguire i fatti. Abbiamo già sospeso la dipendente ed avviato il procedimento disciplinare finalizzato fin anche al licenziamento. A renderlo noto il sindaco di Ercolano ci robò un aiuto all'indomani del servizio di striscia alla notizia che ha smascherato una dipendente comunale che in orario di lavoro si mostrava in spogliarelli con la webcam del pc d'ufficio. Ci costituiremo inoltre, prosegue Buonaiuto, parte civile nel processo penale perché il comportamento di un singolo non può gettare fango su un'intera comunità. Ercolano è altro e la bellezza delle ville vanvitelliane e il fascino senza tempo del parco archeologico e la straordinaria immensità del Vesuvio. Non accettiamo lezioni di moralità da nessuno perché la nostra città ha sconfitto la camorra grazie al coraggio dei cittadini e adesso vuole continuare ad investire in turismo e cultura.